Allora, sicuramente sta in Nord Europa e so che va insieme a Estonia e Lettonia perché solo con loro, le ricordo. Faceva parte della Russia, sicuramente. È un paese freddo, non c'è lo sport, sicuramente non il calcio, perché non li conosco la squadra lituane. Praticamente niente. Te sei l'unica cosa che so della Lituania. Un paese dell'ex Unione Sovietica, si parla il russo, il lituano e si mangia bene. Quindi c'è la Lituania, Estonia e... non mi chiede il nome adesso. Lettonia. No, sì, giusto. Confina con la Russia, ci sono anche altre nazioni, per esempio l'Ucraina, poi se non sbaglio la Svezia, poi peggio la Germania. Allora, Estonia e Lettonia, una delle due per forza. Forse sta in mezzo. Potrebbe. Poi da una parte c'è il mare, dall'altra non so se c'è già la Russia. Che c'altro c'è? La Bologna sta troppo sotto? La Serbia sta troppo sopra? No, come si chiama? Non è la Serbia. Come si chiama? Ho detto una cazzata. In geografia faccio schifo, quindi non te lo saprei proprio dire. Da qualche parte ne più. Forse. Te potrei dire Germania, però so che non è così. Non lo so proprio. Non mi viene in mente niente. Scusa. Potrebbe forse confinare anche col mare. Può darsi. Penso ci saranno tante montagne. In geografia forse sì. Lituania confia con Lettonia, Bielorussia, Polonia, Russia. Non sono sicura della Russia, però... Lettonia e la Polonia e poi mi ricordo sì, c'è anche la Bielorussia. La Bielorussia, Bielorussia, Polonia e la Bielorussia, Polonia e la Bielorussia. Saranno... bah... 300.000. Intorno ai 3 milioni, forse. L'intensità quanti sono? 5 milioni? Vilnius, questo mi pare perché gioco a Monopoli, i Monopoli dell'Europa e quindi conosco i capitali per quello. L'intensità quanti sono? Va, intuito, Varsavia. Vilnius. 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 E dove sia il Francesco? Sarà il Lituano o il Russo? Il Lituanese? La quella nazionale è il Lituano. Però c'è anche il Russo. L'Euro. 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 E l'Euro. Meno 11, meno 20. Meno 20. Media. Ah, meno 10. In inverno... Meno 20, meno 40, forse ero io meno 40. 15. No, magari fa caldo. 25, 25. Dai 5 ai 10 gradi, forse 15. Beh, sarà un'estate più fresca, non sarà calda come da noi, quindi dai 15 ai 20. oltre, ragazzi, ragazzi. Per quanto riguarda l'APS? Questo c'è anche lì. Ok… Il basket. Mh… Stazione scistica. Penso al primo. Basket. Il primo Ministro? Penso una cantante Patrice È buffissimo Non lo so, comandante dell'esercito Di qualcosa, non lo so Comandante Non lo so Un telecronista Non saprei Un comico, un attore O un presentatore televisivo Prendere una mela Forse è un pesce Labas Non lo so, stuzzicadenti Labas Amore Labas Arrivederci Quants arvulto Vaizdo Vaiizdo Įrašų Įrašų Kurėjas Kurėjas Ok, molybos La storia di raiasso che si trattano a che si trattano a che si trattano a che... Lietova. Ascia, Plankintus, Lietuva. Ascia, Plankintus... L... Questa è ultima. Ascia, Plankintus, Lievat... Lievat... Ascia, Plankintus, Lievat... Lievat... Non è meglio. musica 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 musica